Superba contro Marassi duello che si ripete in questa finale di playoff un eterno equilibrio in questa stagione quando si sono trovate l'una contro l'altra solo pareggi infatti fra le due nei match di andata e ritorno una X che questa volta però permetterebbe alla Superba di staccare un biglietto per il terzo turno dato il miglior piazzamento finale e dunque al Marassi rimane solo un risultato la vittoria. Il primo tempo alla gaccia è povero di emozioni segnaliamo l'occasione per parte al settimo minuto per la Superba con il traversone di Cica che diventa un velenosissimo tiro in porta e termina davvero di un niente sopra l'incrocio e poi al sedicesimo per il Marassi con il tentativo dalla distanza di stradi ma la sua conclusione impegna ma non sorprende Bertulessi. Con le immagini vogliamo la ripresa che inizia sulla falsa riga del primo tempo partita spezzata e combattuta ha molto da fare il fischietto del direttore di gara Virgilio che però non fischia al minuto 63 quando il Marassi reclama calcio di rigore per questo fallo su Casella. Il contatto avviene all'interno dell'area ma per l'arbitro non c'è nulla. Si prosegue allora e al 69esimo stradi protesta per questo gomito alto non sanzionato con alcun cartellino. Forse troppo però perché rimedia il secondo cartellino giallo abbandonando così anzitempo il campo e lasciando i suoi in inferiorità numerica per i restanti 20 minuti. L'inferiorità che però non penalizza ma galvanizza i 10 uomini del Marassi rimasti in campo al 72esimo da Ronc fa partire il traversone su cui non arrivano né Lerini né Mirialdo. Poi 60 secondi dopo ancora Marassi questa volta con la conclusione di Casella che trova l'opposizione di Bertulessi. Mancano 7 minuti al 90esimo e gli ospiti reclamano ancora calcio di rigore. Con le immagini al ralentatore si vede chiaramente il tocco di mano di Matera interrompere l'azione di Casella. L'arbitro lascia ancora proseguire ma il Marassi non ci sta e dopo soli due minuti arriva la rete pesantissima del Marassi. Arriva col suo numero 10 calcio di punizione battuto alla perfezione da Ghiglia. Il pallone sorvola la barriera e lascia immobile Bertulessi. Festeggia il Marassi perché manca davvero poco al triplice fischio. Il grandissimo recupero difensivo di Meringolo lo anticipa infatti di qualche secondo. Finisce qui Marassi batte Superba 1-0 cade il fortino Lagaccio e cade dunque l'imbattibilità casalinga della Superba. Lunga tutta una stagione Marassi vola al terzo turno per continuare a sognare il traguardo storico della promozione. Buon forno va! Succederà! In promozione Marassi se ne avrà! Buon forno va! Buon forno va!